A una settimana dall'azzeramento dell'Aggiunta Comunale, Torre del Greco è ancora priva dell'esecutivo. Una situazione che, giorno dopo giorno, delinea una sempre più evidente crisi a Palazzo Baronale, con una maggioranza sfaldata ed il Sindaco Palumba che non riesce a dirimere in ramma tassa sulle nomine degli assessori. Basta temporeggiare e questo l'ultimatum ha lanciato ieri dei consiglieri di maggioranza Piccirillo, Brancaccio, Gargiulo, Guarino, Gramegna, Pomposo e Caldarola. Nel comunicato portato all'attenzione del primo cittadino hanno ricordato che in questo periodo serve un esecutivo che decida su questioni essenziali per la città. In particolare preoccupa il bilancio ad approvare e il piano di assunzioni del Comune. I consiglieri definiscono inspiegabile ed incomprensibile l'attuale assenza dell'Aggiunta in un periodo tanto complesso. In seguito alla missiva Palumba ha deciso di convocare una riunione di maggioranza per stasera alle ore 19.30 nell'aula consigliare di Palazzo Baronale. All'ordine del giorno i punti messi in evidenza dai consiglieri, ma sulla carta non si parla delle nuove nomine per l'esecutivo. Più drastico il movimento politico articolo 1 che ha chiesto le immediate dimissioni del Sindaco rimarcando l'attacco a Palumba con una citazione biblica, fuori mercanti dal Tempio. Una richiesta condivisa anche dal leghista Luigi Mele. Se il Sindaco Palumba è incapace di nominare l'Aggiunta, si dimetta subito questo il suo appello. I torresi, continua, non meritano questa amministrazione litigiosa, capace solo di gestire incarichi. Polemiche a parte, l'unpass della maggioranza rischia di aggravare la condizione di una città che già affanna sotto i colpi della pandemia e della crisi economica. Anche i cittadini sono fortemente preoccupati a causa dell'incertezza politica. È unanime il pensiero che in uno stato di emergenza tanto grave non trovano posto screzzi politici e corse per le poltrone. Bisogna fare qualcosa per questa benedetta città perché ci sta la dosi occupazione che sta mangiando tutti e quindi povera gente che non riesce nemmeno. Non pensiamo il pensionato, il pensionato prende la pensione fino a quando la può prendere, ma tutti questi ragazzi che stanno a spasto senza fare niente, lavorate e cose. Bisogna fare qualcosa per questa benedetta città. Quindi lei Torre del Greco la vede in un momento di stallo da cui dovrebbe riprendersi al più presto? Sì, io spero che si riprenda e certamente che i politici ci metteranno una mano. Se sono politici incompetenti dovrebbero andare a casa, non perdere più tempo. Bisogna mettere le persone veramente esperte che diano a questa città qualcosa veramente che possa dare il beneficio per tutti. Ma quelli di assessori, pure quando c'erano è come se non c'erano. Ma figure da testa, saremo ancora più pieni di spazzatura. Io pago 400 euro all'anno di spazzatura e quando scendo di casa devo fare i salti per camminare sulla spazzatura. Purtroppo questo è il popolo d'orresa che si stanno tutti questi sobrussi e non fa niente. Ci hanno aumentato le spazzature, aumentano quelle, si le aumentano tutti qua, però non fanno niente. Io mi auguro che quelli che verranno saranno molto più intraprendenti nell'aggiustare quelle cose che non vanno a questo paese. Purtroppo in questa situazione di pandemia ognuno trova la scusa adatta per fare politica. Sperando che veramente ci sia l'impegno di tutti quanti nel migliorare la nostra città. Lei crede che in questo momento Torre del Greco sia allo sbando senza una giusta guida sia politica ma anche sociale appunto in un periodo come quello della pandemia? Sì, come ho detto tante cose potevano essere fatte in modo migliore. Innanzitutto spreco di denaro anziché aiutare la povera gente che non ce la fa ad andare avanti e questa è una delle lacune che è stata fatta diciamo nei giorni natalizi e sappiamo quando riguarda le spese delle luminarie e penso anche tante altre cose si potevano risparmiare i soldi per aiutare a chi veramente non ce la fa. Ci vogliono molti nuovi, non sempre gente che sta da 40 anni o da 20 anni che sono sempre soliti. È sempre il stesso potere. È sempre il stesso potere. Allora in un certo momento o bisogna essere nuovi o loro si devono schiarire le idee per fare cose nuove. Questo è il programma. In particolare su cosa è carente questa amministrazione? Cosa denuncia? È fermo. Le cose come stavano quando si sono insediate, così stanno adesso. Non è che hanno migliorato in qualcosa. Io penso che la maggior parte della giunta e comunque di chi sta al governo di una città o di uno stato dovrebbe fermarsi un attimo a pensare. Capisco che è difficile fare tutte le cose per bene e che quindi qualcuno delle forze politiche dell'opposizione non sia d'accordo. Ma è il momento giusto per chiamare una crisi o sarebbe meglio calmarsi un attimo e cercare di portare avanti le emergenze e le necessità in un momento simile? Il discorso non vale solo per Torre, che è una città con enormi problemi, ma vale un po' per tutto, quindi possiamo facilmente generalizzare, penso. Che tipo di problemi in particolare denuncia a Torre del Greco? La giunta comunale o chiunque sia preposto per quello non ce la fa a stare dietro i cittadini di Torre che sono molto sporchi. Non riescono assolutamente a capire dove buttare la spazzatura. Il servizio c'è, basta telefonare e vengono ad accoglierlo. Perché non lo fanno? Allora la giunta cosa fa per evitare che i torresi diano il meglio di sé a sporcare la città? Io quello che dico sempre Torre Annunziata e Del Colano sono più puliti di Torre. Come mai? Cosa si aspetta dunque in questi giorni? Un po' di buonsenso da parte delle forze politiche che mettano da parte quelle che sono le competizioni. Penso che la giunta comunale non era il momento di dimettersi in questo momento tutto particolare. E quindi penso che dovevano trovare un accordo e governare fino a quando la pandemia non era trascorsa, non era passata. Che così abbiamo solo aggravato la situazione. Ora non so gli sviluppi della situazione politicamente come faranno. Ma devono trovare un accordo il più presto possibile. Proprio per governare la città che è un po' allo sbando. Non solo per la nettezza urbana ma per tanti altri motivi. Cosa si aspetta dalle istituzioni comunali a questo punto nei prossimi giorni? Prima di tutto che si elegga la giunta comunale perché abbiamo bisogno che la città venga governata. Non è possibile lasciare da parte tutti gli interessi personali di Poltrone e pensare solo al bene della città e dei cittadini. Grazie. 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 Grazie.